Allora, per poter iniziare io chiederei a Manuel Anselmi, che è un sociologo dell'Università di Perugia, che insegna anche alla LUIS di Roma, di poterci dare un po' delle indicazioni, di poterci dare una mano nella definizione di questo termine di populismo. A partire ovviamente sia da dei tratti caratteristici che per esempio possiamo trovare in vari fenomeni, sia a partire da delle differenze. Possiamo parlare di un populismo di destra come di un populismo di sinistra, possiamo parlare di un populismo reazionario e neofondamentalista così come di un populismo democratico oppure di un populismo penale. Insomma ci sono diverse categorie che sono state utilizzate da studiosi, accademici e da analisti che potrebbero fare al caso nostro per arrivare a una definizione che ci sia di aiuto. Rispondo subito alla domanda perché sai bene che ho scritto questo libro di recente. Populismo proprio per cercare, per fare una proposta di chiarimento concettuale. Il tema è che i populismi, soprattutto negli ultimi dieci anni, noi abbiamo avuto una sorta di proliferazione a livello globale di populismi in quanto fenomeni, ma anche una proliferazione di pubblicazioni. Io cito i dati di un famoso articolo di Marco Deramo, solo negli ultimi due anni si contano più di duemila pubblicazioni sul populismo, quindi immaginate il fenomeno quanto sia studiato, ma perché effettivamente c'è un incremento quantitativo reale. La questione è che io mi occupo prevalentemente dell'America Latina, il problema della definizione non può che essere non può che nascere da una comparazione. Cioè i populismi, molte delle teorie sul populismo risentono un po' del limite di essere teorie che nascono per una famiglia, per una sottofamiglia di populismi. Oggi, proprio per questa comparsa, per questa diffusione su scala globale, noi dobbiamo fare proprio un grande sforzo di tassonomico, innanzitutto, e capire appunto che i populismi sono più che un concetto univoco cartesiano che sta lì e che noi lo riscontriamo in più fenomeni, è più una somiglianza di famiglia, come diceva Cano, vanno riprendendo Wittgenstein, cioè ci sono dei fenomeni che hanno qualcosa in comune, ma che hanno pure delle profonde, diciamo così, differenze. Questo per dire appunto che l'esigenza oggi politologica della filosofia politica, ma poi del dibattito critico sul populismo, è cercare una chiave di lettura che possa mettere insieme il fenomeno Chavez e il fenomeno Salvini. Ovviamente questa sfida, diciamo così, intellettuale è affascinante, ma pure molto vischiosa, perché già il populismo è stato definito un concetto slippery, un concetto scivoloso, proprio questa sua capacità, difficoltà di essere afferrato. Ecco, io di recente appunto ho fatto questo libro in cui ripercorro un po' il dibattito decennale, perché uno pensa sempre che il populismo sia un fenomeno nuovo, perché lo associa soprattutto ai neopopulismi degli ultimi 10-20 anni. In realtà si parla, ovviamente il dibattito risale a molto tempo fa e i primi teorici del populismo, ovviamente avevano altri casi di riferimento, avevano già posto delle questioni fondamentali, era per cui Germani, Gino Germani, il dibattito c'è stato in Inghilterra negli anni 60, eccetera. Ecco, la cosa interessante, per rispondere un po' alla tua domanda, è che il populismo, se noi dovessimo dare una definizione minima, è interessante che il populismo è un concetto polisemico e come tutti i concetti polisemici noi li possiamo affrontare prendendo atto della loro ambiguità, cioè bisogna dare una definizione minima per riconoscerli. E poi dopo, però, caso per caso, approfondirli. Lo dico perché è la stessa cosa per la democrazia, un conto, cioè immaginate quanti casi di democrazia abbiamo o un altro concetto polisemico, ideologia, ci sono tantissime definizioni del concetto di ideologia. Ecco, la definizione minima per riconoscere un populismo, ovviamente sono alcune caratteristiche, il populismo ha una comunità popolo di riferimento, un tipo di stile discorsivo, comunque retorico, manicheo, basato tutto sul noi contro loro, basso contro alto e poi c'è la caratteristica però, diciamo sì, che io sottolineo di più nel mio lavoro perché a me interessava un po' guardare non tanto le etichette in sé come fanno i politologi, ma le basi sociali, cioè le condizioni sociali dell'insorgenza populistica. Ecco, il processo di disintermediazione, cioè mettendo in comune tutti i fenomeni, diciamo sì, guardando tutti i fenomeni, molti dei fenomeni populistici che abbiamo vediamo che c'è questo elemento comune, insorgono laddove c'è un forte processo di disintermediazione. Io uso questo concetto perché lo preferisco a quello più solido che era la crisi della rappresentanza, soprattutto la letteratura di tipo liberale ha sempre messo il populismo come ciò che nasce dalla crisi della rappresentanza. La disintermediazione è un concetto più profondo perché non è solo la rappresentanza politica che viene meno, ma tutti i meccanismi di mediazione che ci sono tra governanti e governati che per motivi storici ben precisi perdono la loro forza, la loro forza di mediazione. Perché non dico crisi della rappresentanza? Perché è equivoco dire che il populismo sia una risposta alla crisi della rappresentanza o comunque una reazione a crisi della rappresentanza perché potrebbe far credere che il populismo non abbia una forma di rappresentanza. Invece per esempio Meni e Surel quando studiano i primi populismi degli anni 90, l'epenismo eccetera, Haider in Austria, dissero una cosa molto intelligente, il populismo ha altre forme di rappresentanza, dirette, diciamo così, basate sulla rappresentazione specchio, insomma su processi di personificazione e identificazione molto forti, ma sono delle forme di rappresentanza, non ha la rappresentanza istituzionale. Quindi date queste caratteristiche per la riconoscibilità proprio del fenomeno, se dovessi dare una definizione, il populismo tu lo sai perché hai guardato il libro, io sottolineo una cosa che in realtà molti degli autori che purtroppo in Italia sono arrivati poco, noi abbiamo giustamente dato molto spazio alla Clau però ci sono autori come Margaret Kahneman, lo stesso Gino Germani, altri autori che vengono poco letti a riguardo perché il dibattito scientifico soprattutto in Italia è un po' parziale e permettimi il termine pure un po' provinciale. Ecco ci sono autori che sottolineano il fatto che il populismo è profondamente collegato alla sovranità popolare, cioè più che alla democrazia, sai che c'è anche questo fatto che il populismo è stato visto spesso come la malattia della democrazia e lo stesso La Clau l'ha abbastanza criticata la cosa, il populismo si lega alla democrazia in un modo indiretto perché è profondamente legato alla sovranità popolare, cioè la sovranità popolare che noi solitamente vediamo come un concetto giuridico astratto. Ecco nel momento in cui viene espressa socialmente dal cittadino può essere espressa in vari modi, in un contesto di mediazione dove ci sono le istituzioni liberali comunque dello Stato costituzionale che funzionano, che hanno loro diciamo così, svolgono la loro funzione per cui sono nate, la sovranità popolare trova quei canali classici che sono i canali classici dell'istituzionalismo eccetera, ma ci sono delle fasi in cui questi canali, questo sistema di rappresentanza e di mediazione appunto non svolge la sua funzione, non funziona. E quindi la sovranità popolare assume delle forme dirette. Ecco il populismo è spesso da un punto di vista sociale l'espressione diretta di una sovranità popolare espressa appunto in modo spesso anche molto mitico, c'è l'altro elemento che la Canovan sottolinea che noi troviamo che i movimenti populistici esprimono una modalità sociale della sovranità popolare, una rivendicazione, anche una soggettivazione politica molto basata su un concetto mitico della sovranità popolare, quasi cieco, quasi irrazionale basato sulla non mediazione, un mito della democrazia. E questo noi lo riscontriamo un po' in tutti i fenomeni di insorgenza popolistica, cioè questa forma mitica. Ora è molto interessante, il mio vuole essere un discorso molto analitico, è come se fosse il grado zero della sovranità popolare che però socialmente si esprime in questo modo. Infatti l'unico tipo di strutturazione è quello basso contro alto, mentre invece non c'è il tema della lotta di classe, non c'è la distinzione destra e sinistra, per quanto poi noi vediamo dal di fuori sappiamo riconoscere che ci sono dei populismi progressisti, dei populismi invece reazionali, però tendenzialmente c'è questo fatto che dal di dentro, infatti ne parlo spesso con alcuni amici antropologi politici, sono interessanti i lavori che sono stati fatti di carattere etnografico sul populismo, i lavori di Abele oppure Linda De Matteo che è forse il più famoso sull'etnografia della Lega Nord, l'idiote in politica si chiamava, sono interessanti perché dal punto di vista del soggetto, cioè di chi partecipa alla comunità populistica c'è quasi una dimensione di fusione totale, di non distinzione razionale e questo è interessante perché la comunità popolo, del populismo è una comunità che permette quasi anche una rigenerazione, quante persone partecipavano a, erano del PD oppure erano dei DS per un certo punto o erano ex 68, poi diventarono berlusconiani e in questa nuova forma di adesione trovarono quasi una nuova identità, cioè questo è, immaginiamo il Movimento 5 Stelle, quanti dalla sinistra o dalla destra sono poi diventati grillini nel Movimento 5 Stelle trovando proprio una nuova identità rigenerante. Ecco questi fenomeni sono molto interessanti perché l'identità di appartenenza, cioè il legame di appartenenza alla comunità populistica è un legame spesso basato su distinzioni minime, ma dove però è forte questa sorta di fusione from, avrebbe torgiastica quasi alla comunità, che però noi lo vediamo espresso, noi siamo il popolo, ovviamente c'è il problema che non si definiscono populisti, pure questa è una parola, il populismo che non è che viene accettato da chi la rappresenta. Quindi io per essere chiaro per questo primo giro di chiacchierate, io direi appunto ci sono degli elementi di riconoscibilità, la comunità popolo, il discorso manicheo, la questione alto contro basso, ovviamente contro l'establishment, il processo di disintermediazione e poi aggiungerei una cosa, mi ero dimenticato, che l'elemento comune che troviamo nelle varie teorie di analisi del populismo è il processo, è la questione della modernizzazione. Ogni volta che c'è una fase di modernizzazione che un po' sradica gli elementi normali della democrazia, ecco il populismo insorge. Se voi vedete le riflessioni che fa Gino Germani sul peronismo, ovviamente sono tutte sul processo di modernizzazione, l'Argentina si sta costruendo, sta vivendo un processo forte, un processo veloce, un processo di modernizzazione e industrializzazione, grandi masse che si spostano dalla provincia argentina e vanno in città, in questo percorso quasi di sradicamento il discorso populistico arriva come un soggetto, una soggettività che li accoglie. Oggi i neopopulismi contemporanei sono tutti caratterizzati da alcuni elementi che sono proprio di definizione telepopulismo, webpopulismo, populismo digitale. Perché? Perché proprio le frontiere delle nuove media, nuove, ormai non più perché la televisione non è più un nuovo media, però le frontiere della modernizzazione rappresentate appunto dai media hanno permesso la creazione di nuove comunità, ma anche hanno sradicato quelle che erano le appartenenze e hanno distrutto pure, eroso quelle che erano le forme di partecipazione politica classica, basate sulla mediazione, sulla presenza territoriale. Ecco per chiudere così passo il microfono. Quando parlo di mediazione, poi lo riprendo dopo, l'Italia è un caso unico, un caso interessante, perché noi se voi prendete un manuale degli anni 60 di scienza politica, di filosofia politica agli anni 60, l'Italia veniva definita una società politica, Farnetti. Farnetti diceva che l'Italia è una società profondamente politica, basata tutta sulla mediazione politica, forti partitocrazia, sindacati molto forti, collateralismo, tante associazioni vicine, addirittura, io faccio l'esempio spesso agli studenti, essendo degli anni 90, nati negli anni 90, non conoscono minimamente la prima repubblica, ma addirittura per trovare lavoro un ragazzo di provincia, un ragazzo soprattutto della borgata di Roma, spesso andava dal prete e cercava la lettera di presentazione, cioè anche una piccola autorità come il parroco del paese poteva svolgere una funzione di mediazione sociale. Ecco noi ci abbiamo avuto la liquidazione veloce negli anni 90, al passaggio della cosiddetta prima repubblica alla seconda repubblica, di quel mondo, per una dimensione completamente nuova, una dimensione dove i leader politici, le autorità mediatiche si relazionavano in modo diretto con il cosiddetto popolo, si è creato proprio quel vuoto che le Ford chiama il vuoto proprio base, che è la base dell'insorgenza populistica. Vabbè, però ci ritorniamo su questo. Grazie. 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 Grazie.